Un saluto, un saluto e un buongiorno agli ascoltatori di Aero Città Aperta, benvenuti all'appuntamento con principio di precauzione, la rubrica settimanale di inchiesta, informazione e approfondimento sul tema del principio di precauzione, appunto, è quasi un mesetto che manchiamo dal consulato appuntamento lunedì alle 13.30, quindi sono anche un po' fuori forma, ecco perché è inchiesta di apprendimento e non di approfondimento. I nostri contatti innanzitutto il nemicoinvisibile.it, l'indirizzo di posta il sito internet, oggi proprio sto facendo un macello, mi confondo le trasmissioni, chiedo venia, è passato un po' di tempo, sono ancora, diciamo, l'onda lunga del ponte. E poi infochiocciola, principio di precauzione.it, l'indirizzo di posta elettronica, la pagina Facebook, principio di precauzione, la trasmissione radiofonica. Oggi tocchiamo un argomento un po' particolare, abbiamo già annunciato che questa trasmissione che nasce come appunto inchiesta, approfondimento sul tema della mancanza di prevenzione nel nostro paese a livello di approccio e di politiche pubbliche, tocchi sempre più fatti sperci. Noi stessi ci stupiamo del numero incredibile di argomenti e di temi che rientrino a buon diritto in questa questione. Oggi per la prima volta, in modo diciamo dedicato, approfondiamo una questione che fa riferimento al tema medico-sanitario. Facciamo un ospite studio che salutiamo, Leonardo Rubini. Buongiorno, Leonardo. Buongiorno a tutti e agli ascoltatori di Radio Città Aperta e grazie dell'ospitalità. Grazie a te per la disponibilità. Il tema è delicato, è un tema che mi ha colpito molto, mi ha interessato molto, di cui conoscevo molto poco e che a mio parere, a nostro parere, rientra a pieno diritto all'interno della questione, diritto alla salute, quindi sanità pubblica, salute come bene comune e soprattutto informazione realmente aperta e approfondita sul tema della salute che permette al paziente di avere consapevolezza delle possibilità che ha per curarsi. Questo è un piccolo cappello. Io ti darei la parola per introdurre la tua storia e il motivo per cui sei stato costretto a diventare in qualche modo famoso dal punto di vista delle informazioni che diffondi a sempre più persone. Sì, sostanzialmente vengo da una patologia cronica, infiammatoria intestinale che si chiama rettocolito ulcerosa, che è cugina del morbo di Crohn. Mi fu diagnosticata nel 1996 e quindi da lì è iniziato il mio classico ITER di visite ospedaliere, esami e diagnosi che all'epoca fu questa qui. Chiaramente inizialmente mi sono affidato come tutti quanti alle cure mediche classiche, quindi seguendo quelli che sono i protocolli che poi ho scoperto successivamente essere praticamente identici in tutto il mondo, perché il protocollo che danno per questo tipo di patologie lo trovi uguale identico negli Stati Uniti, in Francia, in Spagna e via dicendo. E quindi questo già ci può far riflettere un attimino su quello che è un discorso che affronteremo dopo di libertà terapeutica. Dopo che ho fatto il mio percorso per anni senza ottenere dei risultati soddisfacenti, perché purtroppo la patologia continuava ad avanzare e i farmaci continuavano ad essere sempre più potenti, perché da quello che era il cortisone, che già di per sé è un farmaco molto importante, è quella che è la mesalazina, che è il farmaco base di questo tipo di patologie, si era cominciato a passare a un discorso di immunosoppressore e si cominciava a ragionare anche su un discorso di farmaci biologici, che sono assolutamente dei farmaci ricchi di effetti collaterali importanti e si prospettava anche un discorso di operazione chirurgica. Io chiaramente non ho mai accettato questa condizione come una condizione che dovevo sopportare a vita, non ho mai accettato l'idea della cronicità sia della patologia e sia del discorso farmacologico, per cui ho a un certo punto iniziato a fare le mie ricerche, che dopo tantissimi tentativi, poi ho raccontato tutta la mia storia sul mio blog, chi vuole la potrà tranquillamente leggere con calma, dopo tantissimi tentativi sono approdato finalmente a un discorso che mi ha dato un feedback assolutamente positivo, che è quello dell'alimentazione. Quindi seguendo un certo tipo di alimentazione ho già messo a posto in modo importante tutta la sintomatologia che c'è intorno a questo tipo di patologie, sono riuscito nell'arco di pochi mesi a scalare i farmaci che prendevo e ho cominciato a scoprire di essere circondato da tantissime persone che avevano una patologia simile alla mia, tantissime ancora più persone che avevano patologie autoimmuni o croniche infiammatorie in genere e poi appunto approfondendo gli argomenti, dati Istat abbastanza recenti ci dicono che circa 25 milioni di italiani prendono quotidianamente almeno un farmaco per poter tenere sotto controllo il loro stato di salute. Quindi visto il quadro della situazione mi sono reso conto che c'è un grosso problema di mancanza di informazione che di conseguenza porta a una mancanza di libertà di scelta perché tu sei libero di scegliere nel momento in cui sei informato, altrimenti è un'illusione di scelta e quindi non va assolutamente bene. Aggiungo una cosa, scusami se ti interrompo, è un'impressione che ho avuto io che vorrei che tu mi confermassi o appunto mi confutassi. Oltre appunto il fatto che tu sei stato costretto a un viaggio abbastanza complesso, mi sembra non soltanto diciamo dal punto di vista degli studi ma anche fisico, se tu puoi spostare un po' in giro per il mondo, poi magari ce lo racconti, per appunto trovare una soluzione al tuo problema bisogna anche forse si può dire naturalmente se è possibile farlo, altrimenti non si dice che comunque i protocolli, i famosi protocolli di cui tu parli che sono quelli che si seguono diciamo in modo automatico molto spesso nelle strutture medico-sanitarie, delle volte non è che proprio siano i migliori rispetto alle patologie che intendono curare, tu hai trovato qualcosa di meglio, vedendoti adesso a me nulla mi potrebbe in mente, tutto mi potrebbe in mente tale che tu sia una persona che può avere un problema di salute, forse diciamo che il concetto di protocollo potrebbe essere un po' da superare da un certo punto di vista o sbaglio? Allora diciamo che la questione in questi termini è affrontarla abbastanza delicata, io sono consapevole che i medici non soltanto in Italia, nel mondo occidentale in genere e soprattutto i medici ospedalieri sono abbastanza chiusi in una morsa in questo senso, perché hanno delle linee guida che sono molto rigide, sono imposte dai ministeri e per loro uscire fuori da quel seminato è quasi impossibile, almeno a livello ospedaliero qualsiasi cosa dovesse accadere al paziente ne risponderebbero direttamente, probabilmente ne risponderebbero anche prima dal punto di vista della loro carriera sostanzialmente e quindi io da un certo punto di vista più di tanto non me la sento di scagliarmi contro i medici a livello personale, a livello singolo, è più un problema di sistema, il sistema ha fatto in modo che un certo tipo di cultura fosse introdotta prima di tutto nelle università, nelle facoltà di medicina, questo è un discorso nato nel secolo scorso con i grandi capitali che sono entrati nelle università americane e quindi hanno avuto a un certo punto il potere decisionale anche su quello che doveva essere insegnato ai futuri medici all'interno delle università americane, poi come sappiamo l'America a livello imperialistico si è espansa e il suo commercio, il suo marketing, i suoi prodotti sono stati imposti a tutto il mondo occidentale più o meno, per cui anche il suo approccio scientifico, esatto, il problema è proprio questo qui, è il fatto che sia univoca la questione, io credo che tutti dobbiamo essere liberi di poter scegliere come curarci e come dicevo prima dobbiamo avere le informazioni per farlo, a me va benissimo prendere dei farmaci o che qualcuno scelga di prendere dei farmaci perché ha deciso che visto il panorama che ha di fronte per lui la cosa migliore, più comoda, che lo fa sentire più tranquillo, come ti pare, è quello di prendere determinati farmaci, però io devo avere un'informazione appunto a 360 gradi, cioè sapere veramente bene che cosa c'è come discorso di effetti collaterali dei farmaci, sapere anche quali sono i risultati e qual è l'approccio relativamente a un discorso di alimentazione corretta e di integrazione accompagnata all'alimentazione perché molto spesso diventa necessario, se non è obbligatorio anche integrare con alcuni prodotti perché chi entra in un discorso di malattie autoimmuni assume delle carenze tali e il corpo, il metabolismo non funziona più, non risponde più come funziona quello di una persona sana per cui poi ha bisogno di un supporto maggiore e sapere anche di conseguenza quali sono i risultati che si ottengono in questo modo. Ci sono tantissimi studi scientifici, questa è la cosa più importante da dire e questa è la carenza più preoccupante e anche più fastidiosa se vogliamo da parte della maggior parte, scusa la ripetizione, della classe medica, cioè una mancanza di continuo aggiornamento che è la prima cosa che dovrebbe fare un professionista in qualsiasi settore. Allora se gli aggiornamenti sono solamente quelli dati da le case farmaceutiche attraverso i loro convegni e congressi sparsi per il mondo dove poi i medici sono sempre invitati assolutamente gratuitamente in posti fantastici, isole, care ibiche e via dicendo. Tra l'altro in questi giorni è uscito un film interessantissimo che andrò a vedere prossimamente che è il venditore di medicine che apre uno spaccato su questo mondo che purtroppo conosciamo già abbastanza. Allora se questi sono i presupposti è un problema di senso unico, cioè non c'è l'alternativa. Anche i medici nella loro formazione, se tu chiedi a un qualunque medico quanti esami hai fatto di scienza dell'alimentazione, sulla nutrizione sostanzialmente tu cosa ne sai? Se un medico onesto ti dice che ne sa ben poco, anzi zero perché non sono previsti esami di scienza dell'alimentazione nella facoltà di medicina a meno che non si specializzano in quella materia. Quindi ti ritrovi in un reparto di gastroenterologia che se vogliamo è in assoluto quello più vicino al discorso dell'alimentazione dove un medico, un primario di un ospedale anche importante ti dice che l'alimentazione non conta nulla. Di poche settimane fa è scoppiata una polemica sul programma Elisir di Mirabella dove era ospite un gastroenterologo e c'era anche il presidente di un'associazione di malati di questo tipo di patologie come la mia, dove alla domanda se l'alimentazione contasse qualcosa insieme ai farmaci il medico ha escluso in modo assoluto che l'alimentazione possa avere un'importanza. Allora come si può arrivare a dire una cosa del genere? Per me è assolutamente un mistero perché a livello anche di enti mondiali come l'Organizzazione Mondiale della Sanità parlare di alimentazione per la popolazione, per le persone sane è una cosa all'ordine del giorno. Quindi come si fa ad arrivare a dire che per chi ha una patologia intestinale l'alimentazione non conti nulla? Io questo non l'ho ancora capito sinceramente. Anche perché come dicevo prima studi medici a riguardo ce ne sono a bizzeffe. C'è un sito che è internazionale che si chiama PubMed in inglese chiaramente che è come era una volta il latino insomma è la lingua internazionalmente riconosciuta in quasi tutti i campi ma soprattutto nella medicina. Quanti medici parlano inglese non lo so. Quanti vanno su PubMed sono veramente veramente pochi cioè non si aggiornano sostanzialmente. Quindi se tu gli fai un discorso che ne so per dirne una sugli omega 3 sugli eicosanoidi già se gli nomini questa questa parola potrebbero anche non lo so mettersi le mani in tasca e assumere un colorito rosso insomma perché magari non ti sanno rispondere. Allora la questione qual è sostanzialmente? Come può un paziente arrivare a saperne più di un medico e metterlo in imbarazzo sulla sua materia? E frequentando la rete, frequentando social network come Facebook mi sono reso conto di quanto ci sia questa consapevolezza molto diffusa da parte delle persone comune, da parte dei pazienti e ho capito un meccanismo. Cioè che se io voglio andare a mangiare e bere in un posto dove si appunto la qualità è buona e il prezzo non è troppo alto, io non chiederò mai all'associazione dei ristoratori o al proprietario di un ristorante dove mi consiglia di andare a mangiare perché già so chiaramente che cosa mi risponderà. Allora tenderò... Non ti manderà lì. Esatto. E quindi ho capito che dobbiamo chiedere agli altri, alle altre persone che frequentano i ristoranti eccetera dove si mangia bene e facendo questo parallelo un discorso di chiedere agli altri pazienti, confrontarsi con gli altri pazienti che hanno dell'esperienza a riguardo, quali sono le soluzioni che loro hanno trovato migliori per la loro salute. Questo è un pochino il concetto. Quale... ripercorrere tutta la tua storia insomma potrebbe impegnarci magari non questa puntata ma altre due, ma può essere che lo faremo anche perché è interessantissimo. Invece quali sono le conclusioni più macroscopiche a cui sei arrivato seguendo il tuo percorso, confrontandoti appunto con altri pazienti, scoprendo anche mi pare di aver notato medici che invece hanno un approccio un po' diverso, no? La materia. Quali sono le evidenze che tu hai detto? Porca miseria, questa cosa è importantissima per la salute e non viene inserita nei protocolli, non viene indicata come primo intervento da compiere rispetto ad alcune patologie o a tutte le patologie, non lo so insomma. Guarda Alessio, io sono rimasto sconvolto, sono stato in Brasile ai primi di marzo per farmi visitare per intervistare un medico brasiliano che si chiama dottor Cicero Gallico Imbra, lui ha creato un protocollo ad alti dosaggi di vitamina D, D come domodossola, che è quella sostanzialmente che prendiamo al 90% dal sole e ben poco dall'alimentazione perché non è molto presente. Lui ha personalmente almeno 1500 pazienti e la maggior parte dei quali hanno la sclerosi multipla che purtroppo sappiamo essere una malattia molto pesante, molto invalidante. Beh, il 95% dei suoi pazienti, io ne ho intervistati alcuni, già ho pubblicato un'intervista fatta a lui con il sottotitolo in italiano, adesso stiamo preparando quella ai pazienti, stiamo sottotitolando sostanzialmente. Il 95% dei suoi pazienti che seguono il suo protocollo e contestualmente abbandonano il protocollo farmacologico perché chiaramente c'è un'interazione negativa con la vitamina D e vengono monitorati da lui attraverso le analisi del sangue, insomma una serie di esami che si fanno in quel caso. Il 95% dei pazienti vede un ritorno alla salute da un problema così pesante e così grave come la sclerosi multipla. Poi ho avuto conferma da lui durante l'intervista che questo riguarda tutte le patologie autoimmuni e che il discorso della vitamina D è sostanzialmente un discorso assolutamente fondamentale perché la vitamina D è l'immunoregolatore più importante che abbiamo a disposizione. Ha a che fare con 4500 geni all'interno delle cellule come discorso di reazioni e quindi è implicato su tutto ciò che accade perché i recettori della vitamina D sono sparsi in tutto il corpo sostanzialmente. Come si può pensare che una persona sana e ancora di più una persona che ha una patologia può ritrovare la salute o mantenerla avendo questo elemento, la vitamina D, scarso oppure avendo sviluppato o avendo geneticamente un problema di resistenza alla vitamina D, quindi un metabolismo della vitamina D che non funziona come dovrebbe. Mi ha colpito molto durante l'intervista un concetto che ha espresso Coimbra che è quello della negligenza e io comincerò a lavorare attraverso il mio blog e attraverso tutti i contatti con il rete proprio su questo concetto perché io sono convinto che in Italia e non soltanto in Italia però per ora preoccupiamoci dell'Italia che già è tanto, si è arrivato il momento di introdurre una serie di normative a livello legislativo sulla salute e sulla sanità. Tra queste ci deve essere un discorso di responsabilità diretta del medico sul monitoraggio per quanto riguarda i suoi pazienti di quelli che sono i livelli vitali minimi su alcuni fattori fondamentali come per esempio questo della vitamina D. L'esame della vitamina D si fa fare a pochissime persone, in generale persone anziane che hanno problemi di osteoporosi eccetera ma ormai in realtà da anni si sa ci sono almeno 5.000 studi e sto dicendo un numero non a caso 5.000 studi sono tanti sono tanti 5.000 si fa assolutamente sulla vitamina D a livello scheletrico ed extrascheletrico quindi a livello di appunto immunologico. Ora dico tu come medico prima di tutto sei costretto a sapere che ci sono 5.000 studi per la tua professione su questa materia e poi ti devi preoccupare che i tuoi pazienti abbiano dei livelli adeguati di vitamina D nel sangue altrimenti sei negligente. Ancora di più se hai un paziente che ha un problema di autoimmunità quindi sclerosi multipla psoriasi diabete di tipo 1 insomma purtroppo ce ne sono tante di malattie autoimmuni anche come dire anche invalidanti. Questo è quello che vorrei portare avanti non in modo distruttivo cioè per me non è una guerra per me un discorso di collaborazione certo poi ci sarà chi si contrappone perché ha degli interessi ben precisi e quindi non ti vuole dare spazio magari anzi te lo vuole togliere ma io sono convinto che emergeranno tante persone nella classe medica che invece vogliono come dire un attimo svincolarsi da quelli che sono stati dei preconcetti avuti finora e riabbracciare semplicemente la scienza perché non è che stiamo parlando di fare dei discorsi scientifici esatto o complottistici a me non interessa più di tanto lo so che dietro c'è ci sono tante beghe diciamo così insomma lo sappiamo benissimo interessi economici fatturati da capogiro le case farmaceutiche sono società per azioni eccetera eccetera ma starsi a concentrare mettere l'energia su questo è abbastanza relativo può essere anche riduttivo potrebbero essere energie sprecate io vorrei pensare più a costruire e costruire con chi è interessato costruire quindi con i pazienti e con i medici un un ritorno a quello che erano le origini se vogliamo anche della medicina perché una volta il medico ti guardava la lingua ti guardava gli occhi ti chiedeva come fai la cacca proprio testualmente ti toccava la pancia per sentire se avevi dei problemi ti sentiva sotto la gola anche come rimesso con le ghiandole insomma adesso il medico lo sanno tutti tu fai lì magari in ospedale si mette davanti al computer scrive neanche ti guarda negli occhi e non c'è più un rapporto e questo non può funzionare è proprio è scritto che non può funzionare è impossibile questa cosa quindi un corretto diciamo che il tuo obiettivo alla fine è ripristinare e contribuire al ripisto di un corretto rapporto tra medico e paziente un rapporto diciamo più consono a quello che sono i due ruoli assolutamente sì assolutamente sì altrimenti il purtroppo è brutto dirlo e io lavoro proprio in funzione di questo altrimenti c'è il rischio che il medico della classe medica venga inquadrata definitivamente perché giallo in parte come una casta che fa segue un interesse ben preciso che non è quello dei pazienti un po' come i politici che seguono un interesse ben preciso che non è quello dei cittadini e c'è il rischio dell'estromissione cioè io per esempio questo sabato sabato 10 maggio presso l'hotel capannelle e ci sarà un convegno di malati di psoriasi con loro in passato abbiamo organizzato due convegni dove hanno partecipato anche i medici e alcuni li ho invitati io altri li hanno invitati loro e sono stati molto costruttivi questi incontri in questa occasione loro si riuniscono si riuniscono da soli senza medici questi sono campanelli lì sarà un'occasione per avere comunque tante informazioni anche per chi non ha un problema di psoriasi quindi chi si trova a roma lo invito a partecipare però questo è un campanello d'allarme cioè ti fa capire che o il sistema comincia a cambiare direzione oppure comunque sia quella che è l'esigenza naturale di di qualunque di qualunque essere umano per quello di stare bene quello di vivere in salute soprattutto si incomincia a sapere che esiste la possibilità di di stare in salute nonostante una patologia si organizza da solo cioè che altro deve fare qual è l'alternativa sapere che dall'altra parte ci sono c'è un'informazione univoca in parte anche abbastanza non voglio usare la parola bugia però diciamo che è abbastanza forviante con l'informazione univoca e non si dirigerà più da quella parte io spessissimo ricevo email o interagisco sui social network dove mi viene detto che io mai più prenderò farmaci mai più andrò in ospedale mai più mi rivolgerò un medico io addirittura paradossalmente faccio fatica a ripristinare un rapporto sano tra quei pazienti e quei pochi medici che conosco esserci sul territorio che lavorano in modo onesto in modo corretto e è un è un filo che si sta attendendo e si potrebbe spezzare facilmente e non andrebbe bene per tutti questo perché non tutti hanno la consapevolezza la capacità la cultura di autogestirsi anche perché quando uno è malato ha una patologia è anche un po' offuscato anche normale che sia così è psicologicamente più debole per cui non tutti possono essere in grado di autogestirsi e io stendo all'inizio da quando ho aperto il blog ho sempre detto che sono contrario al fai da te perché io in prima persona non ci sono riuscito tante altre persone ci riescono per carità però non posso pensare che che una intera popolazione quei 25 milioni che ti dicevo inizio trasmissione siano in grado di autogestirsi a 360 gradi io penso che la figura del medico che esiste nella cultura diciamo mondiale occidentale orientale che sia dalla notte dei tempi abbia un senso e debba essere mantenuta valorizzata però deve essere assolutamente rifondata hai anticipato una domanda volevo farti poi siamo in conclusione ma quindi esistono medici tu hai verificato distanza di medici che hanno un approccio diciamo un po' più libero e un po' più attento no al concetto di salute come bene primavera tutelare anche mettendo in discussione qualche propria convenzione o qualche protocollo assolutamente sì io a parte che sono i miei medici alcuni poi ce ne sono altri perché insomma non è che possa avere dieci medici da solo però comunque ci collaboro quando ci sono occasioni di convegni eccetera l'invito e lo stesso Coimbra in Brasile è un medico il mio medico in Italia è un medico è un dottore insomma non è che fai di tv2 io il concetto che ti vorrei esprimere che vorrei che gli ascoltatori capissero su questo argomento te lo racchiudo in un in un minuto se ce l'abbiamo rapidamente che è questa storiella molto molto carina c'è un giornalista che va in un manicomio e chiede al direttore visitando il manicomio come fa a scegliere chi è da ricoverare chi non è da ricoverare e il direttore del manicomio lo porta in un in un bagno dove c'è una vasca piena d'acqua e gli dice chi viene qui io gli do a disposizione un cucchiaino una tazza e un secchio e gli dico adesso fammi vedere come svuoti la vasca il giornalista se lo guarda e dice vabbè insomma chiaramente si prende il secchio e si svuota la vasca insomma sembra la cosa più logica e il direttore gli risponde ma guarda semplicemente se togli il tappo quindi dimmi adesso qual è la stanza che vuoi se la vuoi con la vista a panorami oppure no il concetto qual è che i pazienti sono quella vasca quando le persone sono quella vasca quando è piena d'acqua sono dei pazienti hanno un problema di patologia di fronte abbiamo dei medici che stanno lì a sbattere la testa al muro per capire se devono scegliere il cucchiaino la tazza o il secchio quando invece basterebbe togliere il tappo allora se tu non mi controlli quali sono i parametri vitali di ogni persona che sono fondamentalmente i nutrienti quindi i minerali le vitamine come sono gli ormoni eccetera tu non puoi pensare di curare persone che hanno queste carenze importanti con i farmaci è impossibile va chiarissimo i tuoi contatti per chi fosse interessato a sapere di più sul tuo percorso sulla tua storia e su quello che hai verificato già ti anticipo che torneremo a vederci qui volentieri perché comunque c'è ancora tanto da raccontare immagino assolutamente sì mi trovate su internet il mio blog è www.leonardorubbini.org ho anche un profilo facebook gestisco insieme a un'altra persona una pagina relativa a un gruppo facebook relativo a questo discorso della vitamina D e delle malattie autoimmuni per un'altra terapia poi il nome è lungo però già digitando per un'altra terapia si trova e poi sul mio blog trovano le mail insomma c'è tutto sostanzialmente e poi c'è il mio canale youtube dove c'è questa intervista che vi dicevo verranno pubblicate le altre pazienti di Coimbra poi ce ne sono altre che ho fatto in passato a medici e ricercatori comunque Leonardo Rubini cercando il tuo nome già si trovano un sacco di cose io ti ringrazio per la disponibilità ci teniamo assolutamente in contatto e magari ci rivediamo fra un pochino di tempo per continuare un po' ad approfondire questo tuo percorso che potrebbe essere molto importante per tante persone volentieri assolutamente poi se gli ascoltatori hanno proprio degli argomenti delle domande specifiche, delle cose, delle leggende metropolitane perché ce ne sono tante volentieri sono a disposizione bene, noi ringraziamo Leonardo lo avremo di nuovo al nostro ospite di qui a breve anche i nostri contatti principiodeprecauzione.it www.principiodeprecauzione.it il sito internet info.principiodeprecauzione.it l'indirizzo di posta elettronica la pagina su facebook principiodeprecauzione la trasmissione radiofonica noi torniamo lunedì sempre alle 13.30 stavolta ci saremo la nostra vacanza è terminata con oggi e invitiamo naturalmente tutti i nostri ascoltatori a riprendere e a seguirci e nel pomeriggio, al massimo domani il podcast della puntata sarà disponibile sul sito e sulla pagina facebook buon proseguimento a tutti naturalmente sempre su Radio Città Aperta grazie a tutti che